ciao ragazzi arti marziali non solo arti marziali allora giustamente per farvi memoria sulle pubblicità che continuiamo a fare che il volantino dice non dice nulla allora arti marziali metteremo in ballo in paglio scusate una borsa di studio di 500 euro al meritevole ricordatevi che inutile presentarvi se siete stati bocciati perché vogliamo vedere la si chiama la pagella famosa dell'anno precedente l'anno che percorrerà 2017 2016 2017 comunque sia deve sempre avere dei risultati ottimi a scuola non il perditempo che pensa di andare a scuola e tanto da per scontato che lui se dovrebbe fare arti marziali vincerà la borsa di studio ci deve essere un confronto ed è un merito un merito di cui veramente non solo in palestra ma anche a scuola il ragazzo sarà veramente premiato premiato come borsa di studio e niente poi si aggiungerà che facciamo appunto le iscrizioni tramite il comune di brescia con l'ise dunque il massimale mensi annuale chiedo scusa di 130 euro e poi niente facciamo faremo lunedì mercoledì giovedì e sabato dunque quattro giorni di arti marziali di cui tranquillamente potete dividervi in due giornate e tranquillamente quasi scegliere addirittura la vostra il vostro orario però vabbè prima di accelerare i tempi vi aspetto tutti il 12 settembre è esattamente quartier casazza palestra fortuni proprio per darvi un'illustrazione e presentarvi il kit il kit istruttori il kit istruttori che collaboreranno con me e divideranno con me questa questa fantastica avventura di quest'anno ricordandovi che l'anno che è passato è stato veramente fantastico innanzitutto abbiamo collaborato con tatami one con persone fantastiche all'interno che sono veramente serie giustamente amano soprattutto fare cose serie e fatte bene e dunque andando avanti su questo percorso vi dico tranquillamente che noi abbiamo fatto i cinque regionali abbiamo fatto bene siamo stati a rimini abbiamo fatto altrettanto bene chissà di noi è inutile che mi faccio pubblicità adesso in questo video però niente basta ecco la cosa che potrebbe forse interessarvi è dirvi che comunque sia la borsa di studio il premio è di 500 euro attenzione a tutti i passaggi del dell'iscrizione perché sana robusta costituzione fisica prima di tutto secondo l'anno precedente deve essere stato di promozione non di bocciatura e l'anno che percorre innanzitutto devi rimanere promosso e in questo caso avrei la borsa di studio dunque già queste sono le piccole le piccolezze vi dico subito che con noi lavorerà innanzitutto ci sarà maurizio romagnoli che si tratta di lavorare per quanto riguarda la lotta la la lotta a terra sapete tutti benissimo che facciamo già con du ma esattamente sono anni che sto facendo lo street fighter che in tantissimi ormai imitano ma al di fuori di quello ognuno lascio a tutti la possibilità di andare avanti e ognuno mettere in paglio quello che ha di pagnotta di me per me non è nuovo niente lo street fighter io sono veramente tantissimi anni che lo faccio e chissà di me è inutile che ci siamo qua tanto a raccontarci siamo ritornati in gioco alla grande siamo in una federazione come ripeto tatami one secondo il mio punto di vista molto molto seria e molto collaboratrice soprattutto su quello che sono anche le persone interne che posso vantarmi di di dirvi che hanno proprio la voglia di fare e di dare spazio e voglia a tutto e a tutti e niente siamo in collaborazione con la palestra scusate con la scuola fortuni dunque insegneremo ancora ai ragazzi dalla scuola in maniera gratuita la borsa di studio dunque sarà un premio finale ai meritevoli e al meritevole chiedo scusa iscrizione ise di 130 euro tramite il comune di brescia e i mensili normalissimi per le persone che diciamo così a tempo libero avranno voglia di frequentarci dunque cosa dirvi vi aspetto il 12 settembre e faremo un grande dialogo punto e ci vediamo intanto andiamo avanti con questo caldo fantastico tante belle cose a tutti